Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Sono Jacopo, dal 2014 lavoro al progetto Le Canapaie insieme a Giacomo e Edoardo. L'idea è quella di un cambio di vita per un ritorno anche proprio a uno stile di vita più sostenibile, a contatto con la natura e goderci anche proprio quello che è il nostro territorio, un territorio ricco di tante bellezze naturali, quindi di sorgenti e appunto un territorio incontaminato non ancora aggredito da un'agricoltura intensiva. Per cui l'idea di partire con il progetto Le Canapaie è proprio quello di rilanciare questa antica coltivazione della canapa che era presente, che coltivavano già i nostri nonni, ma che era presente nel territorio fin da molto in molto tempo. C'è stata una prima fase di studio dove siamo andati ad analizzare quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità del territorio in relazione a quelli che erano i nostri valori, quindi l'importanza del cibo, l'importanza di una filiera corta e l'importanza di creare una rete produttiva che al centro mettesse appunto il cibo, l'uomo e un'etica dietro ogni anello della produzione. Il progetto è cominciato nelle nostre case, dopo cena ci ritrovavamo e parlando di idee, passioni e inventive abbiamo deciso di ricoltivare la canapa perché era una possibilità e soluzione per tutti, non solo per noi stessi. Le Canapaie sono appunto una società agricola che coltiva canapa nel territorio di Nocera Umbra e fa due tipi di coltivazione, una da seme e una da fiore, quella da seme per trasformarlo poi in olio e farina e da qui vari tipi di pasta. Con il fiore facciamo infiorescenze pure e prodotto poi finale per le estrazioni. L'impresa viene gestita inizialmente totalmente da noi tre, sia a livello di semina, raccolto e distribuzione, trasformazione e logistica. Oggi abbiamo vari collaboratori nel centro Italia per cui ci appoggiamo anche a loro per distribuire i nostri prodotti. Siamo tre ragazzi che ci siamo rimessi insieme cercando di ristabilire un concetto di vita più sano, economicamente giusto, ovvero abbiamo messo insieme una forza, una volontà, una passione che parla più di vita che di lavoro. Per noi è una gioia lavorare in campagna e il nostro contesto sociale è ricco di tanti eventi e situazioni in cui cerchiamo di far capire questo nostro ideale di ritorno alla natura. Siamo partiti in questo progetto senza grandi capitali iniziali per cui la forza è stata sicuramente fin da subito quella di creare questa rete in cui abbiamo coinvolto le anche importanti realtà produttive del territorio. Quindi questo ci ha permesso di arrivare anche a ottenere dei prodotti sicuramente di alta qualità. Questa scelta appunto nasce innanzitutto dalla volontà di amici di condividere un certo stile di vita. Quindi abbiamo fatto un'indagine, degli studi sulle varie coltivazioni del territorio e abbiamo visto che la canapa appunto apparteneva al nostro patrimonio culturale. Quindi ci siamo informati, abbiamo studiato e di giorno in giorno ce ne siamo sempre di più appassionati anche perché ci siamo resi conto delle proprietà veramente benefiche di questa pianta. È una pianta che fa bene appunto sia all'uomo perché è ricca di omega 3, di omega 6, di amminoacidi, di proteine e fa bene anche al territorio, alla natura perché comunque è una pianta fitodepuratrice e quindi riesce a ripurificare il terreno. Ha una radice che va molto in profondità quindi riesce a assorbire i nutrienti del terreno che altrimenti rimarrebbero negli strati più in profondità. piace molto agli uccellini e alle api che contribuiscono a migliorare un po' tutto l'ecosistema. All'inizio degli ostacoli ce ne sono stati molti proprio per il fatto che la canapa era stata dimenticata e abbandonata nella nostra agricoltura e campagna. e di conseguenza non c'era informazione, non c'era più macchinari di trasformazione, non c'era più gente pronta a poter parlare di canapa. Da lì grazie ai nostri studi, passioni e comunque leggendo molto testi passati siamo riusciti a capire che questa pianta è di prima importanza proprio anche per l'uomo. Abbiamo superato questa disinformazione, chiamiamola così, con la nostra curiosità sempre maggiore ma il fatto principale è stata la semina in modo che poi siamo andati effettivamente a lavorare con la pianta e da lì l'esperienza diretta ha fatto la differenza. Crediamo sicuramente nell'importanza anche in questa fase di cambiamento e tra virgolette di crisi l'importanza di una sana alimentazione e del cibo per cui fin da subito abbiamo deciso di investire il nostro tempo, le nostre risorse, le nostre energie nel sviluppare prodotti che mettessero in relazione le caratteristiche del nostro territorio e l'importanza appunto del cibo e quindi della canapa tenendo presente le sue importanti proprietà nutrizionali. Fin da subito abbiamo deciso di presentarci al pubblico partecipando a eventi, fiere, mercati, anche locali e questo soprattutto nella prima fase. Anche a livello di distribuzione siamo stati noi in prima persona a metterci in prima linea e parlare dei nostri prodotti perché crediamo che dietro ai nostri prodotti c'è proprio l'autenticità che è un po' il filo conduttore di quello che è stata la scelta di questo cambiamento. Per quanto riguarda la produzione ci occupiamo un po' di tutte le fasi che vanno dall'ordine ai semi alla semina alla raccolta la raccolta che ci tengo a dire la facciamo manualmente andando a selezionare solamente i migliori fiori e poi riandarli a lavorare sempre manualmente in modo da ottenere solo il meglio. Abbiamo visto che comunque dopo un approfondito studi riguardo alla canapa e alle innumerevoli applicazioni si prestava molto bene per uso alimentare. Non avendo grandi risorse e grandi mezzi appunto ci siamo appoggiati per quanto riguarda la pasta a un pastificio della zona per la birra sempre un micro birrificio artigianale sempre qua del territorio. Dei nostri prodotti per farci conoscere principalmente a livello territoriale. Sicuramente l'autenticità è uno dei valori che ci ha mosso fin dai primi passi in questo progetto per cui autenticità nella riscoperta del territorio e quelli che sono i valori in cui crediamo. Quella che è stata anche la chiave del successo dei nostri prodotti fin da subito è stata proprio l'autenticità. Infatti ci siamo messi in prima linea a raccontare come siamo arrivati a questo cambiamento a questi prodotti e il perché. In questa nostra scelta di cambiamento sicuramente quello che abbiamo deciso di fare è dar valore al tempo creando una rete anche di rapporti con ogni anello della filiera produttiva. Per quanto riguarda l'olio e la farina portiamo i semi da un frantoio a 5 km di distanza quindi tutto ci teniamo a farlo in modo più sostenibile possibile. Mentre per altri aspetti quindi l'utilizzo dei fiori sia in modo diretto li confezioniamo, li produciamo e li lavoriamo direttamente noi. È la prima volta che siamo andati dal mastro birraio e gli abbiamo detto dalla nostra volontà di fare una birra alla canapa ci hanno portato con due occhi come a dire ma questi sono abbastanza matti i nostri nonni la chiamavano il maiale delle piante ovvero il maiale vegetale perché proprio come il maiale non si butta via niente si può utilizzare dalla radice passando per il fusto alle foglie e i fiori ogni componente appunto della pianta si presta bene per certe applicazioni quindi si utilizza il fusto per il tessile anche in edilizia e la parte delle infiorescenze delle foglie più che altro per uso alimentare. Stiamo collaborando tra l'altro con l'università con varie università in particolare con l'università di Perugia con l'università di con il dipartimento di chimica di biotecnologie per andare appunto a studiare le applicazioni terapeutiche e i vari processi. Alla base c'è sicuramente un discorso di autenticità questo è stato fin da subito il punto forza delle canapaglie perché questo è quello che siamo riusciti fin da subito a trasmettere al cliente al ristoratore e al cliente finale che incontravamo nei vari eventi fiere manifestazioni per cui questo ci ha dato fin da subito una grande carica è stato diciamo il motore trainante in tutto questo che ci ha permesso di convincere anche gli operatori che insieme a noi hanno creduto nel progetto e che quindi nei vari ambiti dal birrificio al pastificio al mulino dove produciamo l'olio e la farina hanno creduto nella canapa essere consapevoli della spesa che ognuno quotidianamente fa lì ci ha fatto subito è stata subito la nostra prima domanda pensando a cosa noi vogliamo rivedere cosa noi vogliamo da questi centri storici da questi borghi medievali volevamo appunto trovare un pane fresco con farine locali volevamo trovare una pasta ricca viva di farine locali vive dove c'è la coltivazione dove c'è il signore che lavora i campi dietro a noi tre ci sono tante realtà di ragazzi che ci vengono a trovare che condividiamo nell'arco della giornata un mondo c'è un mondo di iniziative di a livello proprio lavorativo fisico mentale facciamo tante cose e da lì scopri una vita completamente diversa che è fatta di opportunità di gioie questo questo sicuramente ha comportato anche prendere fare delle scelte importanti che a volte inevitabilmente mettono anche di fronte alla difficoltà di abbandonare la certezza di uno stipendio fisso diciamo la certezza l'abbiamo trovata nel quello che abbiamo creato in quello in cui crediamo per cui la certezza ce la dà la qualità dei prodotti e queste sono tutte piccole soddisfazioni che diciamo ci aiutano a uscire da quella che era la comfort zone del lavoro sicuro delle certezze lavorative diciamo a cui tanti si sono aggrappati sei ricompensato da una giornata tipo completamente diversa da quella che vivevo prima e penso che a porti personali soprattutto ecco siamo stati come uno dei punti cardini di questa nuova attività di questo nuovo cambiamento è stato proprio dire quello che ci importa molto è il rapporto personale con le varie appunto persone con i quali ci troviamo a collaborare e comunque sia oltre che collaborare proprio a condividere una stessa filosofia e uno stesso più o meno stile di vita però ad oggi siamo molto molto soddisfatti dei prodotti che otteniamo che vanno sia dal fiore passando per la birra la farina l'olio la pasta e l'estrazione di CPT al momento e non ci fermiamo qua perché stiamo collaborando con varie università per sviluppare nuove applicazioni che vanno con finalità anche terapeutiche quello che in questa fase bisogna fare non è tanto andarsi a inventare chissà che cosa quanto andare a riscoprire quelle che sono le nostre risorse la canapa già di suo diciamo è sinonimo di sostenibilità è una pianta che è estremamente generosa perché appunto con un consumo idrico bassissimo offre una materia prima interessantissima sotto molteplici punti di vista all'estero sono molto avanti qualche nazione ha investito molto ha fatto dei progetti seri di trasformazione e ad oggi si ritrova logicamente avanti perché la canapa è il futuro chi volesse mettere in piedi i progetti simili posso dire intanto di conoscere se stessi i propri punti di forza i propri punti di debolezza i mezzi le risorse a disposizione andare quindi e andare a trasformare un sogno in un progetto in una realtà concreta giorno dopo giorno con passione andando poi a trasformare quello che inizialmente possono sembrare dei problemi andarli a trasformare soluzioni nella canapa abbiamo visto in questi anni che di progetti di voci ce ne sono tante siamo convinti che il settore è in crescita e in espansione e ce n'è per tutti la cosa importante è che prima di seminare avere un obiettivo finale un obiettivo di crescita personale perché non è solo quei 4-5 mesi della pianta che poi ti danno quella chiusura del cerchio le nostre prospettive sono tante perché il calendario anche di quest'anno 2019 è ricco di eventi di collaborazioni tutte incentrate a valori e rispetto appunto per la terra possiamo dire di aver creato una piccola filiera che non esisteva non c'era più ed è importante mettere in piedi queste piccole realtà perché da lì ci sarà spazio per tutti e punteremo a una qualità del territorio ottima noi ci aspettiamo che la canapa torni ad essere leader nel settore agricolo nell'Italia sicuramente quello che ci aspettiamo in futuro è una crescita di consapevolezza nel campo alimentare e nell'abbattimento dei muri che ci sono indubbiamente dietro la coltivazione della canapa dietro i prodotti e la canapa allora sta andando bene perché per noi è diventato un impiego e un impegno quotidiano fare canapa lavorare con i nostri prodotti siamo arrivati a essere molto soddisfatti degli anni passati proprio perché abbiamo preso molta esperienza in questo campo e stiamo sviluppando dei prodotti con una filosofia dietro veramente veramente bella importante e genuina